Finalmente è arrivato il grande momento, manco pochissimi giorni, poi si inizierà questo Leffe Giovani che torna in grande stile dopo il Covid, possiamo dire. Sì, allora, ritorna Leffe Estate con la sua dodicesima edizione. L'anno scorso c'è stato un tentativo di ripresa, infatti abbiamo organizzato ancora la nostra festa, il tema era la ripartenza, quindi il viaggio. Quest'anno invece, come tradizione di Leffe Estate, abbiamo voluto dare un tema diverso dal solito, infatti come si può vedere alle mie spalle il tema è giurassico, quindi tutto quello che riguarda dinosauri e la preistoria in generale. Leffe Estate, come è organizzata quest'anno, che appuntamenti ci sono? Allora, come tutti gli anni Leffe Estate si sviluppa dal giovedì alla domenica, sono quattro sere piene di eventi in cui abbiamo diversi punti di ristoro che spazzano dalla pizzeria al ristorante a un ambiente più focalizzato sulla griglia e hamburger, più fast food, chiamiamolo così. Per quanto riguarda invece gli eventi musicali, abbiamo il giovedì uno spettacolo di magia sul palco principale del mago Facce sta magia, finalista di Tussichevales. Il venerdì abbiamo un tributo a Battisti fatto da Sasha Torrisi, sabato vengono i Vipers con un tributo ai Queen, mentre domenica abbiamo uno spettacolare tributo a Adriano Celentano. Questo sul palco principale. Ovviamente ci sono anche altre attività, come nella piazzetta Servalli, attività più importate su un target giovane, quindi per i bambini con spettacoli di magia e di intrattenimento, mentre in casa parrocchiale abbiamo quattro sere di musica ambientale in acustico, giusto per creare un ambiente più confortevole e pacato. Cosa c'è dietro l'organizzazione di Leffe Estate? Quanti siete? Allora, durante l'organizzazione di Leffe Estate, diciamo che Leffe Estate comincia molti mesi prima. Siamo una trentina di giovani che decidono di organizzare qualcosa per il paese. Durante la festa vera e propria invece i nostri volontari sono circa 200 sparsi sulle quattro serate che ci aiutano nel gestire e nel mandare avanti tutta la macchina organizzativa.